Musica Può dare delle indicazioni per il futuro, perché ci sia una speranza per il territorio, per i giovani, per i lavoratori soprattutto. Musica Il metaverso, o i metaversi potranno essere una nuova piazza, un nuovo luogo dove fare business. Musica 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 Fare un'auto elettrica, fare un sistema di accumulo bellissimo, il miglior al mondo e non riuscire a venderlo a nessuno, perché nessuno se lo può permettere, è decisamente inutile. Quindi l'idea di base che abbiamo portato avanti per adesso è quella di portare tecnologia, portare innovazione ad uno stato fruibile. Musica Musica Quindi l'evoluzione biologica è più lenta di quella culturale ed ecologica. Un progetto molto importante. Musica Musica Perché qual è la grande differenza di questa evoluzione? Perché la chiave civiltà? Oggi la comunicazione significa vivere sulle piattaforme e avere un rapporto di totale condivisione con i cittadini. Musica Musica